E sì, diciamo che per noi è un momento un po' particolare. Arriviamo da sei partiti dove abbiamo fatto quattro punti, quindi dobbiamo fare i punti, dobbiamo fare la partita della vita. Da adesso in avanti dobbiamo cercare di tornare a essere quello che siamo stati qualche, diciamo, un mese fa, per tornare a stare lì davanti, anche se siamo ancora lì. Quindi dobbiamo continuare a lavorare, continuare a fare quello che stiamo facendo e fare un salto in più. Per dire, è come se facciamo la prestazione, però manca il gol, quello che fa vincere la partita. È come avere la chiave nell'occhietto e non girare. Quindi dobbiamo fare quello salto in più, dare quella forza che abbiamo bisogno per vincere le partite. Dobbiamo cercare sempre di dare il massimo, anche se magari il momento non aiuta, però dobbiamo sempre lavorare, sempre migliorare. Dove giochiamo, giochiamo. Dobbiamo essere a disposizione del mister e dare il nostro meglio, anche se facciamo difensore, facciamo portiere, facciamo di tutto. L'importante è giocare e giocare bene per i compagni, per le squadre. La Serie B, come ho detto le altre volte, è un campionato equilibrato. Non è facile giocare la Serie B, per dire i punti. Noi siamo, non lo so, a pochi punti del play-out, a pochi punti della seconda in classifica, che è dall'accesso in Serie A. Quindi c'è quell'equilibrio lì, che magari vinci una partita, sei tra i primi. Perdi una partita, sei fuori dai play-off. Quindi bisogna stare attenti, bisogna lavorare.